Ben trovati anche questa settimana con Linea Ditta. Facciamo il solito giro dei campi dall'eccellenza alla prima categoria partendo proprio dall'eccellenza perché nella ventiquattresima giornata sono quattro le vittorie esterne e interessano tutte le formazioni trapanesi. A partire dalla Folgore che vince 2-1 sul campo del Geraci, ormai il fattore cavataio è sempre più una buona notizia per i castelvetranesi che nelle quattro partite con il nuovo tecnico non hanno mai perso. Tre vittorie e un pareggio. I marcatori dei gol sono stati Spanò nel primo tempo e Ashur nel finale. Perde ancora una volta, seconda sconfitta consecutiva da parte dell'Accademia Trapani contro il Marineo. I trapanesi erano passati in vantaggio al ventottesimo con Federico Nolfo, poi si sono dovuti arrendere solamente al novantacinquesimo agli ospiti. Un grande colpo lo fa il Fulgatore in chiave salvezza che va a vincere 2-1 al Nino Vaccara proprio contro il Mazzara 46, Todaro al quarantaquattresimo e Onua al novantesimo per tre punti preziosissimi contro i mazzaresi che adesso sono stati raggiunti nuovamente in classifica da Castellammare che prosegue nel suo campionato straordinario andando a vincere a Misilmeri contro il Don Carlo grazie al gol di Leo Musso. Prosegue ancora una volta però il periodo nero da parte dell'UIS di Mazzara che si conferma all'ultimo posto 3-0 contro l'Unitas Sciacca. Andiamo a vedere la classifica di quella che è il girone A dell'eccellenza con il primo posto sempre più della Nissa che mantiene il vantaggio di più 7 sul Profavara. Come detto quindi a 42 punti adesso al terzo posto ci sono sia Mazzara 46 e Castellammare e la Folgore dopo molte settimane è dalla parte sinistra della classifica con 31 punti a braccetto con il Marineo e poi Accademia a 23 punti e Fulgatore a 21 che ha superato anche l'Aspra in classifica. Andiamo in proporzione perché a piano degli albanesi non riesce l'impresa nemmeno di portare un punto in casa da parte del Marsala che perde 3-0 contro il San Giorgio Piana però resta in scia il San Vitolo Capo che con lo stesso punteggio ha battuto il Camarat in gol Corbulades e Ramaglio invece in chiave salvezza sospiro di sollievo per l'Alba Alcamo che sempre per 3-0 va a vincere sul campo dell'ultima della classe Icarenze. Quindi classifica anche in questo caso in promozione. In primo posto abbiamo il San Giorgio Piana a 48 punti a seguire staccata di tre lunghezze il San Vitolo Capo. San Giorgio Piana e San Vitolo Capo che per inciso si scontreranno anche nella semifinale di Coppa Italia a promozione. E poi giù a 36 punti abbiamo il Cus Palermo che ha agganciato il Marsala per l'appunto a 36 punti e come dicevamo poco fa l'Alba Alcamo tira un sospiro di sollievo con i suoi 26 punti in classifica riuscendosi sempre più ad allontanarsi dalla zona calda della gradatoria. Scendiamo in categoria giusto per finire il nostro giro dei campi perché vincono tutte le prime quattro a partire proprio dal Regina Mundi che rifila addirittura 8 a 0, 8 reti pardon, al Custonaci che si trova sempre più in una situazione critica di classifica. Vince anche l'Alcamo 1928 nello scontro diretto contro la Margheritese. Un gol grazie a Impeduglia siglato all'ottantottesimo e poi quattro gol tutto facile anche per il Valderice contro il Cinesi. Due gol di Bellingheri e una rete a testa firmata da Catalano e Bassallo. Per quanto riguarda tutti gli altri risultati Speranza ancora vive dei playoff da parte del Belice Sport che vince in rimonta nonostante i due gol di svantaggio il 4 a 2 è stato guidato da Galluzzo autore di una doppietta. Tra Atletico Marsala e Primavera Marsala il derby lo vincono questi ultimi quindi 2 a 0 e poi 5 reti da parte del Salemi contro il Palermo calcio popolare. Per una classifica che dice questo per l'appunto che il Regina Mundi controlla agevolmente il campionato con i suoi 54 punti poi a seguire l'Alcamo 1928 a 46, il Valderice a 44 e poi il Belice Sport che si mantiene ad una distanza minima sulla Margheritese che occupa l'ultima posizione utile per i playoff. E poi ancora sotto il Salemi si trova ampiamente già a salva per il prossimo campionato di prima categoria. Attenzione poi alla Primavera Marsala e al Custonacci, sempre più ultimo l'Atletico Marsala con meno 2 punti. Di questo il resoconto del fine settimana dall'eccellenza alla prima categoria. Chiaramente l'appuntamento e l'invito da parte mia è di restare sempre con linea ditta e quindi ci rivediamo la prossima settimana.